È un periodo che sto trovando continuità e comunque in campo mi trovo bene con Maxi e penso sia merito del mister. Grande feeling con Maxi ma soprattutto ti vediamo anche veramente molto pimpante, molto scattante. Penso che anche dal punto di vista fisico sia il momento migliore per te in questa prima parte di stagione. Sì, è il momento migliore e soprattutto è nel ruolo ideale perché comunque prima non ero proprio punta centrale e questo mi andava a mio sfavore. Adesso essendo punta centrale insieme a un altro compagno di reparto mi trovo molto bene. Oggi tra l'altro è anche svariato un po' come caratteristiche perché poi c'è stato anche l'avvicendamento tra Maxi e De Paul. Hai dovuto anche fare un po' il primo riferimento. È sicuramente un aspetto che ti permette di far vedere tutte le tue caratteristiche proprio da attaccante finalmente come stai sottolineando tu. Sì esatto, finalmente. Comunque era successo in precampionato questo, poi dopo erano cambiate alcune cose e mi ero messo a fare all'esterno. A me non andava proprio benissimo. Adesso col cambio d'allenatore mi ha messo centrale e mi trovo bene come detto prima. Mi pare di capire che oltre alla scelta comunque di metterti in campo l'aspetto psicologico ti abbia ridato un po' fiducia anche nei tuoi mezzi per poter andare alla conclusione, andare a battere. Oggi hai fatto un tiro, il primo controllo Mari non è stato perfetto però poi hai trovato questo diagonale molto preciso. Quindi c'è anche consapevolezza di poter sempre fare male all'avversario. Sì, mi ha dato fiducia sicuramente questa cosa e io ne sono contento sia per me ma soprattutto per la squadra. Kevin adesso si torna a San Siro che è uno stadio che a te piace parecchio. Sì piace parecchio, speriamo che porti bene come le altre volte.